Torna a scendere la curva dei contagi da coronavirus in Sicilia. Oggi sono 484 i nuovi casi riscontrati su 23.794 tamponi processati tra molecolari e test rapidi, con il tasso di positività nuovamente in discesa e adesso al 2%. Assai incoraggiante è il confronto con lo scorso mercoledì. In una settimana in Sicilia i contagi sono calati del 30% e con un maggior numero di tamponi effettuati. In lieve aumento purtroppo è il numero delle vittime, che oggi sono 24, per un totale di 3.915 dall'inizio della pandemia. Buone notizie sia sul fronte dei guariti, con 1.285 persone che hanno superato l'infezione, sia dagli ospedali che vedono diminuire ancora di più la pressione sui reparti. Meno 44 ricoverati in regime ordinario e meno 4 in terapia intensiva. Quasi la metà dei nuovi casi di oggi, 231, sono riferiti alla provincia di Palermo. 56 a Messina, 46 a Catania, 42 a Siracusa, 39 ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 17 a Trapani, 15 a Enna e 7 a Ragusa. Gli attuali positivi nell'isola sono 33.655, di cui 32.540 in isolamento domiciliare, 961 in regime ordinario e 154 in terapia intensiva.